Una grandissima dignità, ci chiama amici, non ci chiama servi, ma una grandissima responsabilità. Ci chiede di essere pronti a dar la vita per gli altri, per tutti, per i nostri amici, ma tutti non sono nostri amici, tutti sono coloro per cui è morto Gesù, tutti sono coloro per cui dobbiamo morire noi. E allora la nostra vocazione di essere cristiani è una cosa meravigliosa, perché non c'è dignità più alta che essere amico di Gesù. Ma è anche terribile, perché non c'è responsabilità più grande, nessuno poteva chiederci di più di quello che ci ha chiesto Gesù.